Allora, io insieme a Andrea Cristiani sono uno dei curatori di questo volume sul Settecento di Andrea Battistini che, come molti di voi sapranno, è autore di molti studi su Vico, però non aveva mai raccolto, oltre a molti studi su tanti altri aspetti della nostra letteratura, però non aveva mai raccolto un volume di studi sul Settecento nel suo complesso. E dal momento che il professor Battistini, come chi di voi lo conosce, detesta gli omaggi accademici e ci ha fatto capire che non avrebbe gradito una miscellanea degli studi in onore di, abbiamo cercato appunto di rendere gli omaggio, cercando di fare cosa grata a lui in particolare, in occasione di un appuntamento importante come i suoi settant'anni e soprattutto la sua nomina a professore merito della nostra Alma Mater, dove Battistini ha insegnato come ordinario dal 1984 al 2017, abbiamo pensato appunto che un umile omaggio potesse essere quello di raccogliere i suoi studi sul Settecento, costruire un libro rendendo giustizia a un ambito che non figurava tra le sue monografie, sapete tutti, autore di volumi non solo su Vico ma sul Barocco, su Dante, sui rapporti tra letteratura e retorica, non sta a me adesso ricordare ovviamente i molti meriti di Andrea Battistini. Ecco, e quindi inizialmente la nostra idea era provare a raccogliere i suoi studi sul Settecento, però il numero complessivo delle pagine sarebbe andato vicino alle 3.000 pagine, noi abbiamo pensato a questo punto di bussare alla porta direttamente del festeggiato e il festeggiato ci ha dato un elenco di 15 saggi che costruiscono un profilo meraviglioso e a tutto tondo del Settecento nel suo complesso. Ecco, la nostra è stata un'opera servile nel senso nobile, neutro del termine, e per cui sia io sia l'altro curatore, Andrea Cristiani, ci siamo riposti innanzitutto di ritagliarci questo spazio che è semplicemente di servizio, e oggi in questa presentazione lasciamo ad altri, ben più titolati di noi, il compito di presentare questo meraviglioso ritratto di un secolo. e questo arduo compito è stato affidato, li ringraziamo per essere solo sobarcati, sobarcato a Corrado Viola e Arnaldo Di Benedetto. Corrado Viola, che parlerà per primo, è un esperto in particolare di questo secolo e adesso insegna letteratura italiana all'Università di Verona, ma si è formato alla Cattolica di Milano e ha studiato il Settecento soprattutto come secolo della Respubblica Literarum, cioè delle relazioni intellettuali, non a caso è un grande esperto di epistolari settecenteschi. Tra le sue opere, ma appunto preferisco lasciare spazio a lui, ricordo i Canoni d'Arcadia del 2009, Carte vive, Epistolari e Carteggi del Settecento del 2018, Gli Indici del Giornale dei Letterati d'Italia, La Curatela importantissima delle lettere di Parini del 2013 e un saggio su quello che è anche uno degli argomenti trattati da Battistini in questo volume su Settecento, un saggio sulle tradizioni letterarie a confronto Italia e Francia nella polemica Orsibur. Ma adesso mi taccio, lascio spazio al primo dei nostri relatori e poi prenderà la parola Arnaldo Di Benedetto che presenterà soprattutto la seconda parte del volume. Grazie. Grazie per queste parole generose di presentazione e grazie soprattutto ai due curatori, Andrea Cristiani e Francesco Ferretti, per avermi voluto qui oggi in questa cornice fastosa, direi, solenne, di questa che mi si dice è la sala dello Stabat Mater Rossignano, 1842, prima esecuzione diretta da Gaetano Donizetti. E grazie per avermi voluto affidare in solido con Arnaldo Di Benedetto questa presentazione dell'ultima fatica di un docente illustre di questo Ateneo come Andrea Battistini, amico, credo di poter dire, e maestro per molti di noi, nell'occasione in cui se ne festeggia l'emeritato. Segnale felice, come notano giustamente i due curatori nella loro premessa, provvida concomitanza di un meritato traguardo accademico e di un'ulteriore tangibile prova, se mai ce ne fosse bisogno, di inintermessa operosità scientifica. Premetto, diciamo così, una comunicazione di servizio, è relativa alla suddivisione del lavoro, ma dice già qualcosa, credo, della struttura del volume che presentiamo, o perlomeno della lettura che ci è sembrato di darne. Corrado Viola si occuperà dei primi nove capitoli, Arnaldo Di Benedetto, dei restanti sei, dal decimo al quindicesimo ed ultimo del volume. Non è solo una distinzione di comodo questa. Il decimo capitolo verte sull'estetica del sublime, che nel secondo Settecento segna l'avvio di nuove forme di sensibilità, da Bertola, da Alfieri, da Foscolo fino a Leopardi, di un nuovo paradigma, diciamo, culturale, di gusto letterario, che aggetta in prospettiva su quello che sarà la civiltà romantica. Sui primi nove capitoli, quelli di mia aspettanza, che pure si inarcano cronologicamente tra il primissimo e l'ultimo Settecento, e dunque coprono tutto l'arco del secolo, campeggia l'emblema dello specchio, metafora di una visione e rappresentazione letteraria della realtà ancora mediata dagli autori classici e dai codici letterari della tradizione, grossomodo quelli d'antico regime per intenderci. Sugli ultimi sei capitoli, invece, si accampa l'insegna della lampada, una luce che si accende nell'intimo del soggetto, proiettando sull'esterno la singolarità irripetibile che era oscurata e spesso deformante del proprio pathos. Appunto, lo specchio e la lampada si intitola il decimo capitolo, quello che avvia questa seconda parte del volume, applicando al tema del paesaggio letterario, fin dall'epigrafe, questi due emblemi che dicevamo, gli stessi, lo specchio e la lampada, che Meyer Abrams pose a titolo di un volume del 1953 sulla teoria romantica e la tradizione critica, ma di questo meglio di me parlerà senz'altro Arnaldo Di Benedetto. Ancora due osservazioni preliminari sugli aspetti, per dire così, esterni del volume, esterni ma poi non troppo. La prima, i saggi raccolti, dicevo, sono 15, pubblicati in varie sedi, per lo più riviste o collettane, tra il 1990 e il 2016. Il libro vale dunque anche come una testimonianza cospicua per dimensioni, sono circa 400 pagine, e per rilievo, come mi auguro di poter mostrare, della dedizione di Battistini al Settecento e del contributo da lui recato alla comprensione di questo secolo cruciale in questi ultimi 25 anni, o quasi 30, se si considera che il primo sulla querelle italo-francese è sì del 2007, ma l'argomento ha sollecitato l'interesse dello studioso anche in seguito, nel 2014, e persino nel novissimo 2018. I saggi figurano debitamente aggiornati, un solo esempio, il quarto, sull'ardua osmosi tra scienza e letteratura, è del 2002, ma in nota si rinvia uno studio sull'argomento del 2015 di William Spaggiari, indizio sicuro, questo ma è già stato detto in effetti, di un diretto intervento autoriale nell'approntamento del volume. Lo dichiarano anche i curatori nella premessa che parlano a ragione di una costruzione coerente il cui merito, dicono, va attribuito all'autore, il quale, virgolette, ha fornito indicazioni essenziali senza le quali quest'opera non avrebbe mai potuto assumere l'aspetto che possiede. E qui vengo al secondo rilievo preliminare. Se osserviamo la successione dei capitoli e la confrontiamo con le date di stesura e di apparizione di ciascuno di essi, è un esercizio a cui ci invita irresistibilmente la provvida bibliografia degli scritti di Andrea Battistini Posta in coda al volume, ben 845 titoli per 61 pagine, dati di per sé soli significativi. Ebbene, se facciamo questo confronto ci si accorge che i pezzi non sono ordinati cronologicamente dal meno al più recente, dal 1990 al 2016, ma si prescinde dalla loro dattazione. E al primo, che come anticipato è del 2007, succede il secondo, che è del 1994, e poi il terzo, del 2003, e così via, con una sorta di moto oscillatorio, visto che di scienza si tratta, irregolare, ora progrediente, ora regrediente. Evidentemente, in osseco, è un criterio più interno di ordinamento, un principio strutturale che rispecchia e denuncia un ordine più segreto, una successione della cronologia, una successione, pardon, che traspone il prima e il poi su di un altro piano, e che, insomma, alla paratassi, potremmo dire così, della cronologia, sostituisce la sintassi di una diegesi. Anche la scelta dei saggi da includere avrà certo a che fare con questo disegno ordinativo più interno che cercheremo di illustrare. Elementi, anche questi della scelta e dell'ordinamento, che, va da sé, non possono, se non essere autoriali. Selezione, dunque, è organizzazione e assemblaggio dei selecta. Aggiungo che ogni capitolo si apre al suo interno con un cappello introduttivo e una struttura uniforme di tutto il volume e poi si articola in paragrafi numerati e titolati per lo più tre o quattro per capitolo. Selezio, disposizio e uniformazione sono i tre momenti principali della confezione antologica, dei procedimenti che realizzano un'antologia e dato che tutti e tre sono molto prenuibilmente, come abbiamo visto, attribuibili all'autore, siamo davanti a una autoantologia che è sempre anche un contributo alla critica di se stesso. A un libro in fondo autobiografico, scritto per giunta da uno studioso dell'autobiografia, ma su questo crinale che è pericolosamente trucciolevole non proseguo. Ci sarebbe ancora da dire, per chiudere questi discorsi di soglia sui dintorni immediati del testo, ci sarebbe ancora da dire del titolo Svelare e Rigenerare. Credo di non sbagliare, supponendo anch'esso di conio autoriale. Scorrendo i titoli dei lavori di Battistini censiti nella bibliografia finale, anche questo sondaggio ci consente una bibliografia, e se ne ricava, detto tra parentesi, la gradita impressione di una felice vena epigrafica, di una titolistica sempre pertinente e insieme di seducente eleganza. Aspetto secondario, forse, ma che pure dice qualcosa del critico e della sua scrittura. Ebbene, se si scorre la nutrita serie di titoli di Andrea Battistini, ci si accorge che la dittologia di verbi all'infinito usati in senso assoluto, come questo, appunto, Svelare e Rigenerare, che a mezzo un po' tra l'enunciazione di un impegno e la descrizione sintetica di modalità operative, direi, è uno dei moduli, anche se non prevalenti, della sua titolistica. Spigolo, ad esempio, è un coordinare e collezionare in una collettanea sui luoghi dell'immaginario barocco del 2001 e un conservare e innovare del 2011, un po' diverso il caso dell'adombrare o pervertire del 2006. È un modulo questo, riconducibile, come sottogenere, direi, a quello più generale della dittologia, che più di frequente si propone come copia di sostantivi, dico sempre nei titoli di Battistini, anch'essi con un forte investimento emblematico e in divaricazione, per lo più se non in opposizione semantica. Il granito e l'arcobaleno, salvatici argomenti e gentili sermoni, girando le verbali e severità di geometriche dimostrazioni, ordine testuale e tumulto esistenziale, sponde impervie e rive fiorite, convergenze e divergenze culturali e via elencando adittico. Altrove, aggiungo ancora tra parentesi, l'abilicazione è resa da un tra, tra antiche e moderni, vico tra antiche e moderni, tra Newton e vico, tra memoria e amnesia, tra l'istrice e il pavone. Ma a parte queste considerazioni un po' estrinseche e formali, che però forse non sono solo tali, va notata con i curatori la suggestione polisemica di un titolo come svelare e rigenerare, sia nel senso di quel cambio di paradigma che si accennava prima a proposito dell'estetica del sublime, di un trapasso tra l'impegno di svelare più proprio della prima metà del secolo e l'ansia di rigenerare più caratteristica della seconda metà, riformatrice o rivoluzionaria che sia, sia nel senso di una compresenza nella misura in cui la rigenerazione della cultura italiana è istanza più o meno implicita nello svelare primo settecentesco. Quanto sottotitolo, studi sulla cultura del Settecento, più referenziale come di solito sono i sottotitoli, e dichiarativo dell'oggetto, la cultura, e dell'ambito cronologico, il Settecento, registriamo per ora, in attesa di dire di più entrando nell'opera, la prospettiva più ampia enunciata dall'oggetto, la cultura e non semplicemente la letteratura, come impone del resto la fisionomia del secolo studiato, che è intimamente e strutturalmente enciclopedico, congenitamente transdisciplinare, anche se poi per larga parte di cultura letterale si tratta, sia pure nei suoi rapporti con altre culture e altri saperi. E per entrare finalmente nel libro, tra le sue pagine, quali sono le linee di questo Settecento che Andrea Battistini ci è venuto proponendo via via in questi ultimi anni e che ora ci propone unitariamente nella compagine compatta della monografia? Quali i punti di forza, gli aspetti più rilevati, i fili? Non uso a caso questa metafora, è del muratore autobiografo e anche di Vico sondato nel secondo capitolo, il muratore autobiografo, i fili che ne costituiscono la trama e ne garantiscono la tenuta. Ora, se ha senso quanto abbiamo detto a proposito dell'ordinamento dei saggi capitoli nella struttura pensata del volume, converrà preliminarmente passarli in rassegna nel loro avvicendarsi in sequenza. Filfilo, diciamolo con Vico, il Vico dell'autobiografia, filfilo e con ischiettezza, scriveva Vico. Il volume si apre con uno studio sulla querelle italo-francese che dai nomi degli opposti protagonisti è nota come Polemica Orsibur, un episodio di cui lo studioso aveva già indicato il rilievo periodizzante come spartiacque tra 6 e 700 nel suo volume del 2000 sul barocco, lo notano opportunamente i curatori nella premessa. Perché il libro di Battistini riesce anche significativo sotto il profilo della verifica, revisione delle categorie periodizzanti e lo vedremo presto. Della Querelle Battistini ricostruisce le premesse culturali, la genesi, lo sviluppo, lo svolgimento e gli esiti più significativi dalla sollevazione corale degli italiani contro l'arroganza dei francesi alla faticosa concertazione della risposta antifrancese del bolognese Giovanni Giuseppe Orsi tra la Firenze della Crusca, la Roma dell'Arcadia e la vicina Modena di Muratori e chiude con Vico il Vico scopritore della comune natura delle nazioni quello anticartesiano in fondo dei nostri temporis studiorum rammarazione l'orazione del 1708 una prospettiva che nella versione all'episteme dogmatica delle idee chiare e distinte e alla sua pretesa egemonizzante di esclusività afferma la priorità della retorica sulla logica nella formazione dell'individuo preserva l'uomo intero ragione e passione vero e verisimile scienze e letteratura e in questa prospettiva appunto quella della comune natura delle nazioni alternativa alla loro boria travalica risolutamente ogni particolarismo e agonismo nazionale in direzione di una riforma della cultura il secondo capitolo sonda un tentativo parallelo di riforma della cultura nazionale del primo settecento le progettate raccolte di autobiografie dei professori più insini promosse per aprire gli occhi ad infiniti altri scrive così i muratori promosse da Bacchini 1692 muratori nelle riflessioni sopra il buon gusto del 15 al più fortunato Porcia 1718 1721 di queste nuove istanze indica Battistini indica le possibili ascendenze culturali per poi concentrarsi sull'autobiografia di muratori della quale rileva le caratteristiche l'intrinseco teleologismo ad esempio che finalizza e così redime anche l'estrinseco cioè le esperienze biografiche centrifughe o le sottolineature etiche dell'impegno indefesso nello studio dell'onoratezza della pietà e del timor di Dio e le rapporta queste peculiarità della vita muratoriana ad altre autobiografie modello cartesi innanzitutto e la struttura e alle convenzioni del genere autobiografico e finisce convocando confronto il vico autobiografo necessariamente ancora lui perché se muratori lascia inedita l'autobiografia nel timore di essere tacciato di narcisismo di impudente esibizione del sé vico si risolve a far stampare la propria per lui la posta in gioco per vico la posta in gioco è più alta significa un'occasione di proseguire il discorso del nostri temporis studiorum razione per una riforma del sistema educativo e insieme di ribadire un punto centrale della sua antropologia filosofica ossia il parallelismo di ontogenesi e filogenesi secondo il principio del verum factum un principio che si potrebbe forse dire istituisce l'autobiografia come genere intimamente vichiano e a vico e alla sua autobiografia conseguentemente è dedicato il terzo capitolo della vita vichiana Battistini sottolinea il teleologismo tale e non altra riuscita è il titolo del capitolo l'orientamento vettoriale a un fine parla Battistini di una semiretta incostante ascesa fine che è poi la stesura della scienza nuova e il raggiungimento della fama tra i dotti e lo fa ancora una volta attraverso una serie di parametrazioni e confronti con Giannone che gli permette di ennucleare due forme di autobiografia quelle che pongono una cesura anche drammatica tra due fasi radicalmente diverse un prima e un poi prima e dopo la condanna della chiesa per Giannone e quelle come la vichiana che distendono senza cesure la continuità di una vocazione predestinazione e anche una parametrazione utile che fa Battistini con il più simile Cartesio che però a differenza di Vico annulla il proprio passato ripudiandolo come erroneo e lo annulla nella conversione dal tempo dell'errore al tempo della verità il quarto capitolo sposta l'attenzione sul rapporto tra letteratura e scienza sulla loro ardua osmosi e sul sommovimento e trasformazione interna del sistema dei generi letterari causati dal confronto con un sapere quello scientifico appunto in via di definitiva specializzazione e anche di autonomizzazione la conclusione è in questo profilo di storia dell'idea nel settecento efficacemente direi potentemente sintetico nella sua chiarezza leggo dopo che la fisica newtoniana aveva rafforzato con le sue leggi centripete sulla gravitazione universale la Weltanschauung attrettanto razionale e ordinata del classicismo il prevalere nel secondo settecento della medicina e della chimica organica sulla fisica per non dire del sensismo mette indirettamente in discussione il principio estetico dell'imitazione modifica l'assetto dei generi e fa sentire l'esigenza di adeguare alla realtà anche la mitologia metamorfosi che per un verso risultano epocali e per un altro verso riducono la cesura che di solito si traccia tra sette e ottocento dicevo sopra della verifica delle categorie periodizzanti che Battistini provvede in questo libro proseguono fruttosamente sulle linee già indicate i saggi successivi il quinto studia i discorsi militari di Algarotti tra dialogo lettera e biografia partendo dal rilievo dell'ibridismo scientifico letterario dell'arte militare tra il modello di Machiavelli e l'epistema sperimentale di Galileo recuperando il filo del confronto agonistico fra nazioni Algarotti vuole mettere l'Italia alla pari delle altre nazioni anche in campo bellico militare e infine avviando un discorso sulla forma epistolare in relazione alle istanze comunicative dell'Algarotti giornalista di alto bordo dice Battistini e in rapporto ai generi letterari affini del dialogo e della biografia un filo quest'ultimo dell'epistolarità fittizia che verrà ripreso in seguito in specie nel nono capitolo il sesto capitolo si sofferma sul tempio della filosofia di Orazio Arrighi Landini un poema di medio settecento insciolti scritto da un curioso tipo di avventuriero onorato la definizione di croce che presenta la scienza notoniana e poi una rassegna una sorta di galleria o di gipsoteca in versi di filosofi antiche e moderni con tanto di note esplicative in calce poema che tra l'altro nel suo proclamare Galileo padre di Cartesio e di Newton una difesa d'ufficio dice Battistini della cultura nazionale e qui riemerge una volta di più la prospettiva del confronto fra tradizioni culturali europee e soprattutto una volgarizzazione delle tesi vichiane quelle della scienza nuova 1730 ma depotenziate e come anestetizzate in quello che Battistini chiama un primitivismo soft più adatto al palato dei nobili mecenati dell'Arrighi e al contesto di sociabilità anch'esso nobiliare fondamentalmente dell'Accademia degli Agiati al quale il poema era destinato un'operetta che pur con i suoi versi dozzinali abborracciati nota da Battistini ha il merito di aver messo in poesia i due più rivoluzionari paradigmi scientifici del Settecento la fisica di Newton e l'antropologia di Vico alla ritrattistica in versi si volge anche il capitolo successivo il settimo sui ritratti poetici di Appiano Buonafede un celestino comacchiese che un decisivo soggiorno a Napoli induce a biografare in versi una folta schiera di personalità e intellettuali partenopei fra cui Vico stesso e molti vicini a lui e più ancora a dotarsi di parametri vichiani nella valutazione dei biografati ad esempio la loro capacità o meno di accoppiare sapienza e deloquenza e di docere delectando un autore aperto alla scienza e al nuovo ma inflessibile in punto di religione che il giacobino Giuseppe Compagnoni apprezzerà più di Bettinelli e di Algarotti per vivacità freschezza e originalità e precisamente al Compagnoni a quello autobiografico delle memorie e al contraffattore di Cagliostro con gli epistolari apocrifi delle lettere da San Leo sono dedicati rispettivamente i capitoli ottavo e nono del volume delle memorie autobiografiche del poligrafo romagnolo di Lugo Compagnoni Battistini analizza gli elementi peculiari rispetto ai due tipi già descritti di autobiografia teleologica quella di conversione e l'altra di predestinazione e il confronto è ancora con il vico della vita ed è una singolarità questa che consiste in una professione di casualità narrativa di aneddotismo entropico e divagante non esente da suggestioni sterniane come nota lo studioso singolarità che però non esclude il ricorso ai topoi tradizionali del genere autobiografico Battistini li passa in rassegna partitamente dimostrando come anche i capricci della sorte individuale vengano a calarsi necessariamente infine negli schemi retorici delle convenzioni letterarie con tradizione immanente al genere autobiografico in quanto tale l'altro studio dedicato a compagnoni indaga in modo senza meno appassionante direi un episodio paradossale della ricezione o meglio della fortuna editoriale del celebre conte di Cagliostro quello per cui il più solenne dei falsari del nostro settecento Cagliostro appunto diventa a sua volta post mortem mito falsificabile e di fatto falsificato da tutta una serie di apocrifi epistolari a lui attribuiti o anche contraffazioni sostanzialmente biografiche sulla sua persona una girandola di falsi e di falsi al quadrato una matassa che Battistini riesce a dipanare magistralmente negando a compagnoni la paternità di due falsi Cagliostreschi attribuitili fino a tempi recenti la corrispondenza segreta della vita pubblica e privata del conte di Cagliostro e gli arcani svelati ossia il cagliostrismo smascherato e assegnandogliela invece la paternità per le lettere di Cagliostro scritte da lui in San Leo la fortezza in cui era stato rinchiuso negli ultimi anni Cagliostro un altro epistolario apocrifo che è una perizia stilistico-linguistica esemplare accerta assai simile a un altro più celebre falso epistolare carcerario anch'esso sicuramente del Compagnoni le veglie di Tasso ma non è tutto c'è ancora un altro falso un falso che si intitola Testamento di Cagliostro che l'editore settecentesco presenta come parto dello stesso autore delle lettere di San Leo e cioè di Compagnoni e un'analisi comparata dei due testi parrebbe perfino confermarlo se non che lo stesso Compagnoni ci avverte Battistini ebbe a negare esplicitamente di essere nell'autore in una sua vita letteraria un'autobiografia un'altra ancora dove non ha ragioni plausibili di mentire e dunque quel testamento è doppiamente contraffatto sto citando perché non è né di Cagliostro né di Compagnoni lo studioso allora non può che riconoscere nella chiusa ma con quasi divertita serenità direi che come sempre avviene per tutte le vicende intricate anche da questa dei falsi di Cagliostro non è possibile diradare tutto il mistero soprattutto se a parlare cito ancora è la voce ventriloqua della letteratura la quale teste Giorgio Manganelli non è altro che sublime menzogna bene chiudo qui non spaventatevi il resume che è un po' troppo costipato temo e forse troppo ravvicinato troppo a ridosso del testo per consentirci la messa a fuoco di qualche persuasiva linea di fondo ad ogni modo che non si tratti semplicemente di una raccolta di studi che attestano un interesse costante dell'autore per il Settecento ma di un volume che del Settecento disegna una parabola mi auguro che sia emerso con sufficiente chiarezza ma se così è mi concedo se è ancora tempo peraltro ancora una domanda conclusivamente quale a libro chiuso il suo polo d'attrazione ed orientamento più riconoscibile ora pare a me che questo centro gravitazionale per dire così del volume parlo naturalmente dei primi nove capitoli ma forse non solo di questi pare a me che questo cuore pulsante abbia senza meno un nome preciso un'anagrafe accertabile e determinata Giambattista Vico la sua presenza e questo l'abbiamo visto è ubiqua basta un semplice sguardo all'indice dei nomi finale per accertarsene Vico è il più citato di tutti gli autori ma non si tratta solo di questo il nome di Vico occorre puntualmente a ogni snodo dell'indagine sia frontalmente come oggetto privilegiato e diretto di analisi sia e forse più lateralmente come termine di riferimento comparativo o di verifica del giudizio storico critico è con lui con Vico che in Italia la Gran Querelle riguadagna il piano alto di un confronto tra ancien e moderno dopo che nel nostro spazio culturale era scaduta a Querelle des Nations e lui Vico a dare alla letteratura nazionale quel modello di autobiografia teleologica dicevamo che funge da archetipo anche dove è ripudiato per ogni successiva realizzazione oltre che da cartina di tornasole per lo storico che le analizza compagnoni ma anche alfieri dodicesimo capitolo e chissà mi domando tra parentesi da un altro punto di vista un po' rapidamente per non rendere troppo affollato il discorso proprio nella chiusa chissà se è possibile per il Settecento ipotizzare un processo di autobiografizzazione qualcosa di analogo e parallelo al processo di romanzizzazione teorizzato da Bakhtin per l'Ottocento per il quale dunque tutti i generi letterari settecenteschi o una loro larga porzione sono attratti dal genere egemone l'autobiografia o meglio da un complesso di generi affini quelli egocentrati dell'autobiografia e della lettera magari o meglio ancora dall'attitudine che essi esprimono l'autobiografismo un po' come quelle dell'Ottocento sono attratti dal genere egemone il romanzo appunto perché e chiudo la parentesi il libro di cui stiamo discutendo è anche se non soprattutto una storia dei generi letterari settecenteschi questi luoghi di incontro e talora di frizione tra retorica e storia letteraria queste istituzioni del campo letterario che fungono da orizzonte di attesa per i lettori e da modelli di scrittura per gli autori chiuso a parentesi ma dicendo Gian Battista Vico non si dice soltanto un autore la sua opera il suo ruolo e posizione nella nostra storia letteraria che pur sarebbe dire già molto si dice un plesso di temi culturalmente definito e identificabile un nucleo di interessi e di problemi correlati su tutti la scienza e la retorica e dunque i rapporti tra letteratura e scienza e tra letteratura e retorica e le grandi tematiche culturali storico-culturali di vero verisimile e falso di intelletto e fantasia di ragione e passione e delle loro serie omologhe e affini sono come si vede gli oggetti culturali che con maggiore assiduità mi pare di poter dire hanno attirato ed esercitato l'interesse di Andrea Battistini sicché è forte la tentazione e il festeggiato me la perdonerà spero di indicare in Vico autore da cui Battistini esordì e su cui si laureò se non sbaglio il luogo seminale di tutti o molti dei suoi successivi interessi natura di cose è sempre Vico a insegnarcelo in una famosa degnità non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise grazie prende ora la parola il professore Arnaldo Di Benedetto che è emerito di letteratura italiana all'università di Torino ed è uno studioso che ha esplorato molti ambiti della nostra tradizione essendo impossibile elencare tutti i suoi numerosi volumi vi ricordo semplicemente che è studioso del Cinquecento con particolare attenzione a Tasso e a della Casa è grande esperto del Settecento con una particolare predilezione per Alfieri e per la cultura del secondo Settecento ed è studioso della nostra tradizione ottocentesca con contributi fondamentali su Manzoni e su Niene Ricordo solo anche alcuni dei riconoscimenti che ha ricevuto nel 2002 ha ricevuto il premio Corrado Alvaro per la saggistica e nel 2003 un premio dell'Accademia dei Lincei e nel 2007 l'Università d'Atene gli ha conferito anche la laurea onoris causa sono più che contento anzitutto per l'occasione offerta da Battistini e dai curatori e dai curatori di questo bel volume e anche per essere qui in quest'aula solennissima non solenne direi userei un bel superlativo proprio veramente bellissima e mi ha fatto piacere poi rivedere tanti amici per l'occasione insomma oramai si viaggia meno alla mia età in questo ricchissimo volume di saggi di Andrea Battistini curato da Cristiani e da Ferretti autori anche di una eccellente premessa preceduta da una in tutto condivisibile presentazione del Rettore Francesco Ubertini dunque questo volume di saggi dicevo colpiscono oltre alla feconda conoscenza dei personaggi delle opere studiate e dei loro contesti storico-culturali in molti fili che legano i saggi tra loro il libro non è certo una convenzionale storia letteraria o culturale del secolo ma in alcuni casi è spontaneo leggendo alcune pagine riandare a pagine di qualche saggio precedente il settecento italiano qui presentato è il secolo dell'erudizione innovatrice del rinnovamento filosofico del nuovo razionalismo illuminista diverso o almeno parzialmente diverso da quello cartesiano dei mutamenti del gusto estetico della nuova concezione dell'infanzia e dei radicali auspici rigeneratori politico-sociali non più solo storiografici filosofici estetici di fine secolo svelare e rigenerare appunto come si legge nel titolo citato appunto più volte anche da Viola lo specchio e la lampada che è stato già citato precedentemente è mio compito preciso trattare in particolare degli ultimi sei saggi del libro lo specchio e la lampada il paesaggio settecentesco dal bello al sublime passando per il pittoresco del 2009 riprende come è stato già ricordato nella prima parte del titolo le metafore del titolo del famoso libro di Meyer Howard Abrams lo specchio e la lampada la teoria romantica e la tradizione critica che uscì nel 1953 con le metafore dello specchio e della lampada lo studioso americano contrapponeva l'estetica della creatività a quella della mimesi l'affermazione del principio della creatività emerse nel secondo settecento e si impose col romanticismo anche il romanticismo italiano aggiungo talvolta troppo maltrattato il passato accolse il nuovo pensiero proveniente dall'area tedesca e inglese e Ludovico di Brehme nel suo cosiddetto manifesto del 1816 intorno all'ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani teorizzò e raccomandò l'imitazione della natura naturans e non più come volevano i classicisti della natura naturata un linguaggio che deriva da spinosa ma qui viene utilizzato a tutt'altri scopi razionali la natura è creativa e altrettanto lo è il poeta sappiamo che è un principio che verrà invece rifiutato proprio dal romantico Manzoni il poeta per Manzoni non è creativo ma è inventore nel senso che trova in venire non creatore ma Manzoni è un'eccezione le poetiche del secondo settecento valorizzarono ulteriormente la categoria del sublime che già nel fondamentale trattato dello pseudolongino del primo secolo dopo Cristo è presentato come espressione delle superiori qualità intellettuali etiche e passionali dello scrittore oratore o poeta che sia l'antico trattato fu pubblicato a Basilea nel sedicesimo secolo ma ebbe larga circolazione in Europa nel diciottesimo secolo grazie a Nicolas Boalot che lo tradusse e che scrisse le riflessioni critiche su alcuni passaggi del rettore Longino pubblicato postome un anno dopo la morte nel 1713 in quel secolo il diciottesimo fondamentali e innovativi scritti sul sublime si dovettero all'irlandese Edmund Barck a Kant a Schiller ma nello stesso settecento fu teorizzata anche un'altra categoria quella del pittoresco che si distaccava dall'armonia idilliaca del bello inoltre il settecento è anche il secolo della scoperta si fa per dire naturalmente perché fu un'invenzione il settecento è anche il secolo della scoperta di Ossian che accompagna l'invenzione del mito della poesia primitiva il cui canone includeva con Ossian la poesia del vecchio testamento Omero Esiodo e talvolta anche Dante che nel diciottesimo secolo ebbe ammiratori e detrattori perché il Medioevo era ancora considerato in prevalenza un puro imbarbarimento e Dante si sarebbe collocato proprio all'uscita da quell'imbarbarimento e a questo primitivismo non fu estraneo lo stesso neoclassicismo basta pensare alla predilezione nell'ambito architettonico per la colonna dorica semplice e maestosa la dottrina settecentesca del sublime ebbe effetti anche in Italia Battistini cita un brano del trattato dell'entusiasmo delle belle arti del 1769 di Saverio Bettinelli dove il gesuita mantovano racconta di una sua ascesa sul Vesuvio Vesuvio era diventato una meta importante per molti viaggiatori in Italia la pagina di Bettinelli è dominata dall'entusiasmo nominato già nel titolo e dal timore insieme entusiasmo e timore il paesaggio è grandioso e inquietante questi sono appunto elementi fondamentali proprio del sentimento del sublime lo stato d'animo è pieno di grandezze e di maestà non mai più sentita del Vesuvio in eruzione Bettinelli aveva già scritto nel poemetto le raccolte del 1752 Battistini citta anche un bel basso della lettera datata 2 aprile 1765 dei viaggi attraverso la Francia e l'Italia di Tobias Smollett sulla cascata delle marmore che produce scrive Smollett uno spettacolo di tremenda sublimità notiamo c'è la parola spettacolo da un lato si guarda sapendosi al sicuro ma nello stesso tempo ciò che viene guardato incute tremenda sublimità cioè grandiosità e insieme un certo timore una descrizione molto meno imponente ne aveva fatta un sessantennio prima ricorda sempre Battistini Joseph Edison anche le cascate di Tivoli mi si consente una piccola divagazione stimolarono molti pittori e incisori nel settecento e nell'ottocento e il settecento è il secolo che cambia la visione delle Alpi prima erano un fastidioso e pericoloso punto diciamo d'obbligo passaggio d'obbligo per chi doveva spingersi a nord o da nord scendere a sud poi a partire dal poemetto di Alpen le Alpi di Albrecht von Haller ed alcune pagine della novella Eloise di Rousseau diventarono la meta spettacolare e grandiosa di molti viaggiatori e più tardi nel diciannovesimo secolo nacquero l'alpinismo e il turismo alpino pittoresco e sublime talvolta sconfinavano l'uno nell'altro al centro del saggio Bertola e la sensibilità pittoresca della linea serpentina del 2000 è il viaggio sul reno e nei suoi contorni del 1795 l'opera certo più apprezzata con con l'idea della bella letteratura alemanna e con le traduzioni da Gessner e l'elogio di Gessner di Aurelio De Giorgi Bertola con la ricca cultura che gli è propria Battistini coglie all'inizio del proprio saggio un'allusione contenuta nelle prime pagine del viaggio sul reno al famoso trattato del pittore incisore inglese William Hogarth l'analisi della bellezza che uscì nel 1753 e pochi anni dopo fu già tradotto in italiano movimento incostanza eclettismo animazione intreccio sono termini che possono caratterizzare positivamente il gusto di Bertola un gusto che può rientrare nella categoria del pittoresco un termine quest'ultimo del resto ben presente nel linguaggio di Bertola la linea curva la linea serpentina teorizzata da Hogarth mostrano un orientamento lontano dal bello ideale classicista improntato al pittoresco alla serpentina e il paesaggio renano presentato nel viaggio nelle diverse ore della giornata nelle diverse stagioni e seguito nei mutamenti del corso del suo grande fiume del quale Alfieri coglierà piuttosto il sublime e arricchito delle rovine il paesaggio renano arricchito delle rovine caratteristiche del gusto paesistico del tempo che tra l'altro caratterizzarono anche il settecentesco e ancora ottocentesco giardino all'inglese i tre viaggi successivi i tre saggi successivi trattano di aspetti importanti dell'opera di Vittorio Alfieri il primo è un aspetto proprio della vita Battistini come è stato ricordato tra i suoi temi ha anche proprio una serie di studi sulle autobiografie e sull'autobiografia un suo libro si intitola Lo specchio di Dedalo che stupì molti come Dedalo non Narciso non Narciso Dedalo cioè quello che si deve orientare nel labirinto nel labirinto che è anche la propria vita in certo senso dicevo il primo dei tre saggi alfieriani è intitolato Il bambino e l'adulto nella vita di Alfieri Continuità o Frattura ed è del 2004 nel secondo Settecento si ha un mutamento di impostazione nelle autobiografie certo anche per l'influsso delle confessioni e dell'Emile di Rousseau rispetto alle autobiografie del primo Settecento Queste ultime del primo Settecento erano volte a ricostruire narrativamente il percorso intellettuale di eruditi e filosofi Il corso della vita è rappresentato come un continuo sviluppo e accrescimento intellettuale Nell'autobiografia di Vico di cui Battistini tratta in un saggio precedente contenuto nel libro persino la terribile caduta dalla scala a sette anni è ricondotta la vocazione intellettuale dell'io autobiografico di lì nel filosofo napoletano si sarebbe sviluppata parole di Vico la sua natura malinconica ed acre e si sa che fin dall'antichità malinconia ovvero bile nera e uomini d'eccezione poeti filosofi politici erano abbinati nel XVIII secolo Bertola dedicò una lirica alla malinconia in quest'ultimo ambito rientra anche Alfieri che parla di malinconia come fonte di inquietudine prodotta dalla vocazione poetica da lui non ancora riconosciuta il poeta piemontese dichiara peraltro nell'introduzione alla vita che alcuni episodi sono narrati perché possono riguardare non solo lui ma la pianta uomo d'altra parte parlare di sé equivale a parlare anche dell'uomo in generale un concetto a fine aveva sostenuto Rousseau all'inizio delle confessioni la spinta del forte sentire come lo chiama Alfieri che induce alla poesia è innata ma Alfieri racconta quanto la sua vocazione fosse incompresa e contrastata in più modi dall'ambiente familiare e sociale in cui era cresciuto un cui principio di vita era come ricorda Alfieri stesso che ad un signore non era necessario di diventare dottore un signore era qualcuno già solo per essere un signore non era necessario quindi poteva essere anche un ignorante ma restava pur sempre un signore l'eccezione tra gli aristocratici la incontrò a Torino nella tarda infanzia e adolescenza e fu questa eccezione l'architetto Benedetto Alfieri suo cugino di secondo grado il quale gli fece conoscere il teatro e la dimensione artistica le sue spinte irrazionali di Alfieri restarono a lungo incomprese e condizionarono successivamente una parte della sua vita disordinata e vuota fino alla svolta risolutiva l'altro saggio intellettuali e potere la poetica civile di Vittorio Alfieri del 2006 tratta soprattutto del pensiero politico di Alfieri dell'uso che ne fecero i rivoluzionari francesi e i cosiddetti giacobini italiani quando ormai Alfieri aveva voltato alle spalle la rivoluzione francese come fecero del resto anche altri intellettuali europei il poeta aveva predicato il distacco dei letterati dal mecenatismo dei principi a differenza degli artisti figurativi che per esprimersi hanno bisogno di laute commissioni ai poeti basta poco per dar voce al proprio ruolo è vero che da un lato anzitutto in Inghilterra si diffondeva allora l'idea dello scrivere come mestiere dello scrittore che viveva della vendita dei propri libri ma Alfieri rifiutò questa soluzione d'altro lato Alfieri ritenne che il letterato e in particolare il poeta dovesse essere economicamente autosufficiente e solo gli aristocratici potevano trovarsi in questo stato ma doveva formarsi così auspicava una classe di aristocratici colti e lontani dalle corti questi sarebbero parole di Alfieri i pochi aristocratici che non si lasciano proteggere ai quali fu dedicato il secondo libro del trattato del principe e delle lettere da loro sarebbe dovuto scaturire un giorno un diffuso anti-assolutismo in questa posizione Alfieri conferma la propria insofferenza anti-monarchica il mito settecentesco del monarca illuminato per molti filosofi rappresentato dal re di Prussia Federico II o da Caterina di Russia è da lui liquidato senza incertezze e tirannica per lui è non solo la monarchia assoluta ma anche la repubblica oligarchica Venezia Genova la monarchia costituzionale come quella inglese e di alcuni paesi del nord era invece per lui una forma di repubblica nello stesso tempo appellandosi agli aristocratici perché intraprendessero la rigenerazione politica Alfieri si manifestava contemporaneamente inguarigibilmente come disse Goethe stock aristocratico si potrebbe dire aristocratico tutto ad un pezzo Alfieri che pure aveva una certa stima di lui che fece tradurre il Saul lo fece rappresentare quando uscì la vita di Alfieri raccomandò ad alcuni amici come libro da leggere l'italianista Norbert Jonat come ricorda Battistini lo definì da parte sua un sostenitore dell'aristocrazia degli intellettuali il saggio Vittorio Alfieri Le mosche francesi e le api inglesi del 1990 prende spunto da uno dei tanti testi scritti dal poeta sulla rivoluzione francese dalle sue lettere emerge che in un primo tempo Alfieri allora residente a Parigi sembrò indifferente a ciò che andava maturando intorno a lui era preso dall'edizione di alcune opere avviata nel 1787 e affidata alla tipografia installata da Beaumarchais a Cale Amrain a due passi da Strasburgo per pubblicare tutte le opere di Voltaire sottraendole alla censura francese inoltre nel 1787 89 Alfieri stampò a Parigi presso Didot la nuova e definitiva edizione delle sue tragedie in realtà il poeta fu poi coinvolto nelle vicende rivoluzionari in un primo tempo condivise e poi osteggiate un frutto del coinvolgimento fu la favoletta Le mosche e l'api del 1789 dove alle mosche cioè i francesi sono positivamente contrapposte le api gli inglesi e questa la correzione il contraveleno come Alfieri si esprimerà poi della precedente opera della precedente ode Parigi sbastigliato dello stesso 1789 la quale ode aveva invece presentato positivamente la rivoluzione francese dandola inoltre per felicemente conclusa la visione negativa della rivoluzione portò il poeta ad accentuare la sua anglofilia politica Malfieri contivava in sé una speranza che gli italiani si svegliassero pregiungere a un sistema politico superiore anche a quello inglese tali speranze lette come profezia promossero Alfieri a padre del risorgimento e del nazionalismo nonché più tardi ahimè a precursore anche del fascismo ma a quest'ultimo proposito non mancarono le interpretazioni contrastanti dall'Alfieri liberale di Gobetti all'anarchico di Umberto Calosso all'Alfieri riscoperto come ricorda Battistini da alcuni letterati durante la resistenza Giacomo De Benedetti scrisse il suo vocazione di Vittorio Alfieri tra l'ottobre del 1943 e il maggio del 1944 l'ultimo saggio del libro non più alfieriano è miti di rigenerazione e culto letterario della giovinezza al tempo della rivoluzione francese del 2003 il quale saggio illustra il principio della rigenerazione come basilare dell'ideologia rivoluzionaria francese ed europea di fine settecento il termine è largamente usato rigenerazione negli anni della rivoluzione anche in Italia con altri analoghi il curioso palingenesia chiaramente un calco del francese palingenesie redenzione eccetera il 1789 è definito da alcuni l'anno rigeneratore un testo teatrale andato in scena a Parigi nel 1791 intitolato la Francia rigenerata un trattato del già ricordato Giuseppe Compagnoni discute della rigenerazione morale a cui gli individui possono ricondurre l'umanità grazie a una nuova rigenerazione politica dalla rigenerazione politica quindi alla rigenerazione morale dal cambiamento politico al cambiamento etico della società compagnoni Battistini ha dedicato anche altri scritti che non sono raccolti in questo volume ricordo Giuseppe Compagnoni e l'uomo nuovo del 99 emblema dell'auspicata rigenerazione politica e sociale si intende è la Fenice la quale risorge dalle sue ceneri ultima reincarnazione questa rivoluzionaria dell'antico mito già accolto e fatto proprio e a suo tempo rinnovato dal cristianesimo ma il concetto di palingenesi fu usato anche negli anni della restaurazione quindi a rivoluzione conclusa dal filosofo e scrittore Pier Simone Balanche che nel 1827 pubblicò i saggi di palingenesi sociale dove teorizzò l'avvio di un rinnovamento capace di cancellare gli effetti distruttivi della rivoluzione secondo una personale concezione dello sviluppo storico come una alternanza di periodi di distruzione e di rigenerazione rigenerazione sociale può significare anche distacco dal passato rifiuto della esemplarità dell'antico Condorcet teorizzò tale rifiuto nel 1792 rigenerazione può significare inoltre culto della giovinezza l'esame nouveau gli uomini nuovi appunto sono le prime parole del titolo del trattato di compagnone a cui ho alluso prima dove si parla anche di una nuova rigenerazione politica esaltatore della giovinezza fu lo scienziato e pensatore svizzero buon conoscitore di Rousseau Johann Georg Zimmermann al quale Battistini dedica pagine illuminanti l'inquietudine giovanile animata da uno spirito di rivolta è alla base di personaggi letterari come Werther e come Jacopo Ortis personaggi contestatori che giungono al suicidio un suicidio aggiungo molto moderno quello di Werther il quale si uccide con la pistola un suicidio da eroe alfieriano quello di Ortis che usa il pugnale grazie infine al caro professore merito Andrea Battistini per averci arricchiti negli anni conquisti e con non pochi altri saggi e curatelle testuali e per continuare ad arricchirci tuttora generosamente grazie prima di lasciare la parola all'autore anche Andrea Cristiani voleva lasciare una testimonianza allora intanto volevo preliminarmente ringraziare tutti i presenti e poi ringraziare soprattutto l'amabile cortesia della direttrice dell'archiginnasio la dottoressa Anne Manfron che ha voluto ospitare questo incontro nella sala dello Stabat Mater e appunto prima di lasciare le parole ad Andrea Battistini pochissime almeno per giustificare il nome sul cartellino che c'è su questo palco in parte la genese di questo libro è stata anticipata da Francesco Ferretti io vorrei portare solamente una testimonianza personale sulle motivazioni di questa curatela insomma chi ha avuto occasione di curare una pubblicazione sa che il più delle volte questa incombenza è assolta per dovere professionale molto raramente invece per scelta e soprattutto per piacere il libro di Andrea Battistini fortunatamente appartiene a questo secondo caso perché il piacere innanzitutto affonda in una amicizia di lunga data che risale agli anni settanta e ad una comune passione che esiste fra me e Battistini il ciclismo ho scoperto che anche Corrado Viola si può aggiungere e anche Francesco Ferretti a questa comunanza di piaceri ciclistici e poi perché a questo piacere se ne associa un altro di altro tipo quello per esempio di aver letto o riletto a distanza di anni cose chiamiamole così su autori e su periodi che anche io ho frequentato questa più distesa lettura chiamiamola editoriale ha avuto poi la fortuna di rivelare aspetti punti di vista prospettive che ignoravo o che non avevo considerato nella loro importanza mi riferisco tanto per fare un velocissimo esempio al saggio dedicato al viaggio sul renno di Bertola dove Andrea Battistini propone una linea interpretativa che lo porta a individuare in un trattato di William del pittore William Hogarth analisi della bellezza una persuasiva fonte di alcuni principi dell'estetica bertoliana primo fra tutti gli effetti sui sensi e sulla mente prodotti dall'andamento serpentino del tracciato che poi si rivela un sicuro antidodo alla monotonia e alla noia del viaggio insomma un pittore con la penna in mano dunque dotato di uno sguardo in grado di intercettare le seduzioni della poesia e le fascinose sfumature cromatiche della pittura e poi il saggio su compagnoni contraffattore di Cagliostro che insomma di quest'autore cioè di compagnoni mi ha fatto conoscere risvolti che sapevo che conoscevo sapevo solo di sfuggita ma mi ha anche confermato molte delle certezze che avevo sul compagnoni autobiografo un autore questo che ho a lungo seguito nella sua attività di giornalista militante in forza prima come collaboratore e poi come direttore di uno dei periodici più pugnati e da guerriti della fine del settecento le memorie enciclopediche per non dire poi della poesia scientifica e dell'ambizioso progetto degli uomini di cultura del settecento di fondere insieme il sapere letterario e il sapere scientifico altro settore che ho seguito e frequentato ma di Andrea Battistini in maniera più distesa e più dotta avete potuto seguire lo straordinario itinerario culturale la pluralità delle competenze l'acuta raffinatezza del critico attraverso gli interventi che mi hanno preceduto per cui non occorre dilungarsi più di tanto per non cadere nella ripetizione rimane solo il suggerimento di avvicinarsi il libro questo libro questa antologia di saggi questa raccolta di saggi svelare e rigenerare se si vuole intraprendere un affascinante viaggio nella cultura del settecento ed ora la parola ad Andrea qualcuno sa che io in linea di principio sono contrario o meglio non sono troppo favorevole alle presentazioni anche se ne ho fatte un certo numero questa volta però devo dire che mi devo ricredere nel senso che mi fa molto piacere mi ha fatto molto piacere questa presentazione magari in buona parte per ragioni narcisistiche si è parlato di me essendo la presentazione un genere epidittico se ne è parlato bene non ho mai sentito una presentazione dove il presentatore parlava male del libro in oggetto e questa è la ragione per cui ho qualche dubbio sulla attendibilità del genere presentazioni ma al massimo posso dire che avrà fatto velo a me favorevole l'amicizia dei presentatori per cui è un fatto positivo anche che abbiano parlato bene di me certo con questa presentazione devo dire è caduto un mio primato un mio primato degno di comparire nel Guinness dei primati cioè io non avevo mai avuto una presentazione di un mio libro nella mia carriera ma non perché non me lo avessero voluto fare perché ero io reticente a farmi presentare quindi è caduto un record ma al tempo stesso questo record in realtà è ancora rimasto in piedi perché a ben guardare qui i veri quelli che devono essere festeggiati e sono gli artefici di questo libro sono i registi di questo libro che sono appunto Andrea Cristiani e Francesco Ferretti perché in realtà questo libro è il loro perché raccoglie delle cose che avevo già fatto in passato quindi è a loro che va il merito intanto per l'idea che hanno avuto per tutta la fase e la componente diciamo paratestuale che spesso è molto più gravosa a volte della scrittura stessa dei contenuti e la cosa mi fa molto piacere appunto poter riconoscere questo ai due curatori anche per certe ragioni simboliche perché forse casuale ma si è avuto anche qui un connubio una dittologia appunto come diceva Corrado Viola anche in questo caso c'è un diversamente giovane che è Andrea Cristiani che è meiocoetaneo ci conosciamo come minimo da 50 anni abbiamo anche qualche imprese ciclistiche fatte in comune ricordo che abbiamo fatto per scherzare una foto tra me e lui che voleva riprodurre la famosa foto di Coppie Bartali e del passaggio della borraccia non si sa ancora bene chi abbia passato la borraccia all'altro in questo caso è stato Andrea che ha porto la borraccia a me perché questo libro appunto si deve alla sua iniziativa e insieme a quella di Francesco Ferretti che in realtà è un altro ciclista molto più poderoso di noi anche comparativamente ai nostri vecchi tempi ma anche anche comparativamente comparativamente in termini anagrafici quindi c'è un meno giovane e un più giovane che si sono abbinati quindi c'è una specie di liaison che connette due estremità temporali almeno per quello che riguarda la nostra la nostra esistenza e poi mi ha fatto anche piacere perché i due curatori sono tra i più preparati e colti settecentisti hanno scritto tantissimo ma non è questo che conta soprattutto hanno scritto cose che rimangono che sono significative e quindi la loro presentazione è particolarmente autorevole in fondo anche in questo caso ci sono si può dire due generazioni che sono venuti a convergere sul libro una generazione mia coetanea e una generazione più giovane che è adesso nel fiore della sua produzione produttività e poi mi ha fatto molto piacere anche perché questa presentazione è stata l'occasione di rivedere tante persone io ringrazio veramente di cuore tutti i presenti e ricordo in particolare quelli che sono venuti da fuori che sono venuti prendendo il treno si sono scomodati per me e quindi io sono molto grato a loro intanto per la loro presenza ma anche per il fatto che in questo modo ci hanno permesso hanno permesso a me di rivederli con molto piacere ringrazio infine la dottoressa Manfron che non ha avuto nemmeno bisogno di essere richiesta qui si è riproposta la scena di Dante con Can Grande della Scala è stata prima lei a offrire a noi la sala che non noi a doverla chiedere quindi è stata più rapida la persona che dava di quella che andava a chiedere e quindi la ringrazio non solo per avere messo a disposizione la sala ma anche per lo stile con cui questa sala ci è stata concessa per il resto mi sembra che non sia più il caso di continuare entrando nel discorso diciamo culturale perché l'hanno fatto adeguatamente sia Corrado Viola sia Arnaldo di Benedetto certamente hanno colto i punti cruciali del discorso e sì effettivamente alle spalle di tutto questo c'è Vico anche se in realtà poi un solo saggio è dedicato specificamente a Vico ma una certa metodologia certe cose che sono entrate nelle vene o nel sangue circolano infatti le degnità sono paragonate ad Avico che aveva da poco saputo che il sangue circolava nelle vene Harvey aveva scoperto questo non da tanto tempo e paragona appunto le degnità al sangue che circola ovunque ma in effetti questo può essere una presenza lontana c'è anche una presenza molto più vicina soprattutto vicina diciamo così nel cuore visto che si parla di sangue e di vene che è la presenza di Estio Raimondi perché se è vero quello che dice Vico e che giustamente ha ricordato Corrado cioè natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi modi e con certe guise io ho cominciato a lavorare su Vico grazie a Estio Raimondi da notare che Raimondi ha scritto su tutto e di tutti forse l'unico autore nelle sue mille e più pubblicazioni su cui non ha mai scritto niente è stato Vico e però quando io andai a proporre questo tema di laurea Raimondi come sempre sempre disponibile e generoso non ha battuto ciglio ho detto va bene senz'altro e questo è un tratto che mi piace ricordare ci sono colleghi che assegnano soltanto tesi relative al loro argomento settoriale che coltivano da una vita ma ci sono anche maestri come appunto è stato Raimondi che non ha mai detto di no a nessuno e a nessuna proposta di tesi e allora fu in fondo questo particolare il fatto che Raimondi abbia accettato questa proposta se poi io ho continuato a coltivare questo autore allargando sempre un po' alla volta l'orizzonte al al settecento non mi rimane un altro che ringraziare ancora tutti per questa per questo pomeriggio ringraziarli anche per il disturbo che si sono presi nel venire perché è sempre un tempo impiegato per qualcun altro in questo caso per me e quindi sono grato del dono che tutti mi avete fatto venendo qua e grazie io a questo punto credo non ci sia proprio più nulla da aggiungere il motto che conclude l'Orlando Furioso è pro bono malum il fatto che segnala che l'ingratitudine è la legge che regna nel mondo ecco noi abbiamo cercato veramente di andare controcorrente rendere pro bono bonum e quindi di rendere qualcosa di buono per tutto il bene che abbiamo ricevuto al festeggiato e ringraziamo quindi tutti voi ancora una volta per essere stati presenti perché era un dialogo anche se abbiamo parlato solo noi ringraziamo ancora una volta chi ci ha concesso questo magnifico spazio per il dialogo e continuiamo appunto a esprimere intimamente la gratitudine nei confronti di Andrea Battistini grazie a tutti